Ancora un idolo delle teenager a Foggia, dopo Michele Bravi e Benj e Fede, il turno di Marco Carta. Il noto cantante e vincitore di Amici nel 2008 e del Festival di Sanremo nel 2009, sta attraversando tutto lo stivale da nord a sud, isole comprese, per l'instructur di Tieniti Forte. Eccolo per il firma Copia e la Mondadori di Via Oberdan. Tieniti Forte perché il meglio sta arrivando, così Marco Carta nel presentare il nuovo disco, un album ricco di nuovi suoni e un'ottima produzione che traccia un nuovo percorso artistico del cantante, insomma un Marco Carta che non ti aspetti. Il disco, che segna il ritorno del cantante sulla scena musicale, è stato anticipato dal singolo Il Meglio Sta Arrivando. Tieniti Forte è un mantra, un riassunto, un filo conduttore, così descrive Marco Carta il suo nuovo album, che lega perfettamente i brani del nuovo disco, dove tutte le tracce sono accomunate dall'esigenza di imparare a resistere. Tutto gira inevitabilmente attorno all'amore.